Musica Oh yeah Potremmo iniziarlo il suo confidat Effettivamente il gioco non ha tutti i torti E da un bel po' che non la sto cagando In sostanza non l'ho mai cagata Però effettivamente Può essere un'idea Proviamoci ad iniziare Questo nuovo confidat Oh di nuovo ragazzo Non dare la colpa a me se vieni mangiato vivo Ok Ehi stronzo ubriaca c'è da fare Ehi dov'è il mio bicchiere Avevo chiesto un altro giro no Quanto ho bevuto oggi Che ore sono No aspetta mi importa invece E' così ubriaca Da non essersi neanche accorta di te Se riuscissimo a farle scrivere quegli articoli Questo avrebbe effetto sul memento Agendo nel modo giusto Il nostro rapporto con lei potrebbe tornarci utile Che ne dici Stringiamo un patto con Oya Stringiamo un patto Tiene a mente il fatto che è ubriaca Su datti da fare con questa contrattazione Ehi ubriacona Sulla faccia Riprenditi Ehi Lala Chan Sicura che questa non sia semplice acqua? Se stai cercando di fregarmi Svelerò i tuoi segreti in un articolo speciale Oh sei tu Prego siediti Sì grazie Allora Cosa vuoi? Hai qualche novità Sui ladri fantasma? Oppure Ti stai solo innamorando di me? Madonna Quanto ti odio Anche quello Guarda tanto è ubriaca Va bene tutto Anche quello? Allora dimmi Hai notizie sui ladri fantasma? Ma io intendevo innamorarmi Però vabbè dai Grazie al cielo L'editore mi ha appena nominata Cronista principale del caso dei ladri fantasma Diamine Questo mi farà Mi sarà utile Vuoi davvero usare questo pulcino Come fonte di informazioni? Non rovinare la festa I ragazzi hanno accesso a informazioni Che noi adulti ignoriamo La cosa davvero importante È che ora Ho una buona fonte esterna Per i miei articoli Come ti pare? Dunque Questa volta cosa vuoi avere da me? Informazioni su qualcuno? Del vile denaro? Non voglio nulla Eh? Che fortuna Ho appena È appena apparsa una gallina Dalle uova d'oro Non ora posso rilassarmi Potrei anche andare in vacanza Con tutto questo tempo libero Figuriamoci Cosa vuoi? Dimmelo L'altra volta erano informazioni Su Kaneshiro eh Beh poco dopo è stato arrestato Non pensare che non sia Non sappia unire i puntini Anche se sono ubriaca Qualcosa non quadra Non c'è nulla di strano Sei solo ubriaca Sei un pessimo bugiardo Ma ho capito Ma ho capito l'antifona Sei un grande fan Dei ladri fantasma eh Ehi Non ti farò usare Questo pulcino Per andare in vacanza In vacanza? Oh Stavo scherzando Nelle mie ore libere Sto portando avanti Delle indagini A lavoro Non lo sa nessuno Non dirmi che Ehi Facciamo così Tu mi fornisci informazioni Sull'adrifantasma E io scriverò articoli Basati su ciò che mi dirai Hai presente Il ladrifantasma Che ammiri così tanto? Ci stai? Mi sembra perfetto Ok Affare fatto Farò un'ottima pubblicità All'adrifantasma Quindi Di fornirmi Buone notizie bomba Ho stretto un patto Con Oya Eccoci di nuovo qui Ah cazzo La droga A un certo punto A un certo punto Della vostra reputazione Schizzata le stelle Tutta quella pubblicità È sospetta Avevi una talpa Tra i giornalisti? Qualcuno in grado Di manipolare le informazioni? No no Solo un'ubriacona Che andava ad ubriacarsi Al bar Cos'è da dire A riguardo? Nulla di eccezionale Credimi Naru wa Nanji Nanji wa Naru Hai appena stretto Una nuova alleanza Essa diverrà le ali Della ribellione Capace di spezzare Le catede La tua prigionia Con la nascita Di questa persona E il diavolo Mi sono concesso I venti sacri Che condurranno A libertà E ha un nuovo potere Shin Kiko Scusatemi Anche l'altra volta Scoop infondato Riduce il livello di allerta Quando trovi Una safe room Se non ricordo male Grazie al suo dono Di addio Abbiamo accesso A tutto quello Che è la sfera Del livello di allerta Del livello di allerta Ora non mi ricordo Con precisione Ma forse si Oh Non dire nulla Nessuno Però Intesi Non voglio che si sappia Che la mia fonte È un liceale Ok Fascino Guarda un po' Benissimo Sono un signore Va bene Fa' attenzione Mentre torni a casa Non andare troppo in giro A Shinjuku Dopo il tramonto Tesoro Ci sono parecchi tipiloschi In circolazione Lala Chan Dove sei? Ehi Lala Chan Dove? Dove sei? Cazzo Onestamente Quella donna Sarà la mia fine Dovresti andare Se ti trova Ti farà passare La notte in bianco Sembra divertente Grazie Oh Adorabile Al giorno d'oggi È difficile De ricevere gratitudine Tra qualche anno Sarei un vero rubacuori Oh Ti prendo in giro Ora Torna a casa Prima di che qualche degenerato Dei bassi fondi Ti sputi addosso Beh Farei meglio Tornare dentro Sarei sempre Il benvenuto qui Ma fila dritto a casa Stanotte Ok? Certo Grazie a te Ah E un'altra giornata Passò Se nessuno ci chiama Oggi si entra Benissimo Morgana Sai che ora è ora? È l'ora Di entrare nel metaverso Ragazzi Questa è una chiamata ufficiale Venite qui Miau Perdonami Ryuji Confido che tu gli ricordi i dettagli della nostra nuova tattica di combattimento Tattica di combattimento? Oh Intendi quella roba di cui abbiamo discusso prima del festival estivo vero? Sì Ho tutto in testa Molto bene Di cosa state parlando? Parliamo solo dell'importanza di aggiungere Pepe alle nostre tattiche di combattimento Di tanto in tanto Aggiungere Pepe? Eh Non preoccuparti Più tardi vi mostrerò qualcosa di sensazionale Lo speciale di Ryuji e Yusuke Però non abbiamo visto se la stella ha accettato A dire il vero Questo palazzo mi ha sorpreso Era un enorme deserto Già Finora Distorsione a parte Sono sempre stati normali i rappresentazioni della città Per questo la prima volta che siamo entrati in quello di Kamoshida non ce ne siamo accorti Ma è così che funzionano i palazzi Quelle città sono comunque delle cognizioni I signori dei palazzi erano dei criminali Ma vivevano nella società e conoscevano la città Futaba invece probabilmente no Anzi scommetto che a lei il mondo esterno neanche interessa Ecco perché il suo palazzo era un deserto desolato Considerato il suo stile di vita è comprensibile Dubito che ci siano molti famosi criminali che si recludono in casa come lei Speriamo che sia così o dovremmo attraversare altri deserti Non ti preoccupare Ci saranno posti peggiori del deserto Non ne sarei così certa An Esatto neanch'io Molte persone di alto rango viaggiano in limusino o in aereo E non conoscono veramente la città In aereo? Accidenti magari Voglio dire non vi piacerebbe andare in un palazzo sospeso tra le nuvole? Beh quello di Kaneshiro già era lì eh No grazie Penso che una banca volante sia stata più che sufficiente grazie Esatto Devo ammettere però che la questione dell'aria circostante la distorsione è affascinante A seconda del criminale il palazzo può comprendere una replica esatta di Tokyo Mi piacerebbe esaminare l'estetica di un luogo del genere almeno una volta In quella tua testaccia non pensi che all'arte eh? Sì un criminale con un grande spirito d'osservazione potrebbe replicare fedelmente la città Ma anche se un palazzo del genere esiste davvero non vedo come potrebbe servirci Rileggere tutto questo col senno di poi ti fa pensare Dov'è Morgana? Scusa un attimo Ah è sulla sedia è qui non si vede ma è qui Vediamo un attimo anche le richieste già che ci siamo Allora adesso abbiamo solo una richiesta quindi i memento fuori questione È il momento di infiltrarci nel palazzo Anche perché dopo questo palazzo otterremo finalmente un nuovo potenziamento che ci servirà veramente tanto Miau eccoci qua Ehi sono comparsi i costumi dei ladri fantasma Vuol dire che ci considerano una minaccia facciamo attenzione Questo vuol dire più nemici Ok ragazzi è il momento di entrare vediamo E vediamo se riusciamo a passare almeno la prima porta Continua a non aprirsi forse dobbiamo arrenderci Non ha senso restare qui cosa vuoi fare Joker? Cerchiamo un altro ingresso troviamo il modo di aprirla Ha senso ma non abbiamo idea di cosa di come farlo Dobbiamo controllare ogni luogo sospetto sia dentro la piramide che all'esterno Oh all'esterno quindi dobbiamo tornare al caldo Niente lamentele abbiamo iniziato iniziamo subito le indagini Ok questo vuol dire che dobbiamo uscire Ve ne andate? Tornate qui parliamo un po' Oh ciao Futaba Buona giornata eh Bentornati credevo che non vi avrei più rivisti Chissà perché non riesco a credere che tu abbia cercato di schiacciarci con un dannato masso Vuoi che rubiamo quel maledetto tesoro oppure no? Hmm perché non stringiamo un accordo? Volete andare oltre vero? Un accordo? Qui vicino c'è una città vorrei che recuperaste ciò che è stato che il bandito mi ha rubato Oh sì mi sembra di aver visto una città lungo la strada Se mi riporterete ciò che è stato rubato vi ricompenserò Vi dirò anche come proseguire Puoi darci qualche altro dettaglio? Qualcosa sul bandito o su quello che ha rubato? Capirete tutto quando arriverete lì Se vogliamo raggiungere la città dobbiamo uscire all'esterno Possiamo andare quando vuoi Joker Ovvero andiamo adesso Allora come facciamo a raggiungere questa città? Ha detto che è qui vicina Forse da qui possiamo vederla giusto? Giusta osservazione Esaminiamo i dintorni a caccia di eventuali città È là ragazzi Cioè si vede è là Dobbiamo raggiungere la città E recuperare il tesoro di Futaba O meglio quello che gli è stato rubato Ehi quella laggiù non è una città? Sì mi sembra di scorgere alcuni edifici Vuoi andare alla città Joker? È lontana direi che è la mia occasione per mettermi in mostra Andiamo allora Mona Makin Eccomi qua Non so che ci si dice machine però Contro cosa hai sbattuto? Siamo arrivati deve essere la città di cui parlava l'ombra di Futaba È piuttosto desolata Ma ha detto che qui vivono solo banditi Eppure Eppure non c'è nessuno A parte I suddetti banditi cattivi Dai vieni Devo vedere se sono di colore verde Se posso ucciderli subito Dopo controlliamo Ah dei Sandman Voi siete deboli al fuoco e all'elettricità Mi mancano entrambe le cose Pensa un po' E allora è il tuo momento di risplendere Ali Abissali Eh dai Potevi fare qualcosa di meglio Bravo Yusuke Comunque mi turba il fatto che il Mjornir d'oppressione è una mazza chiodata Perché? Perché se il Mjornir che è il martello di Thor mi fa una palla chiodata? Santo cielo aspetta Ah sono verdi tra l'altro però Oggi usiamo La ragnatela di Spider-Man Vediamo Altri Sandman No Stavolta Dei Anzu Debole al nucleare e allo sparo Ho pochi proiettili effettivamente Muori allora Anzu Bel colpo eh Allora Mi stavo incastrando in una pianta Allora qui c'è niente Lì c'è un altro bandito Però sono tutti verdi quindi Showtime Perfetto C'era una cesta Sono sicuro di ricordare che in una zona così Ci fosse una cesta Vabbè l'importante È che non ci siano nemici Che mi possono fare imboscatoni E qua C'è una piazzetta Lasciatemelo dire Qui c'è una strana atmosfera In giro non percepisco nessuno Ehi voi Cercate qualcosa? Eh? Mi sembrava di aver sentito qualcuno Ed eccovi qua Benvenuti nel deserto cari colleghi Cosa intendi con colleghi? Lascia perdere l'accoglienza Sei un bandito giusto? Tira fuori le cose che hai rubato Ah che cosa interessante Un gruppo di criminali contro un collega Beh se volete qualcosa dovrete prima prendermi Aspetta L'hai fatto scappare Scal Io Ne parleremo dopo Seguiamolo Allora dobbiamo inseguirlo Sì perché La suddetta ombra Scappa Ma non mi ricordo dove si Cos'è? Ah è un fuoco viola Non mi ricordo dove si va a infilare Quindi Ora lui si sposta Ehi ti ho detto di aspettare Noi Sei troppo lento idiota Così non mi prenderai mai Ah 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 Io scappo E' scappato di nuovo Prendetelo presto Allora in sostanza Dobbiamo reinfilarlo in un vicolo cieco Quindi ora lo dobbiamo far scappare di nuovo E lo dobbiamo incastrare di nuovo Qua dentro Ah Sei poco furbo amico mio Sei stato stupido Ehi bandito Qual è il problema? Non corri più? Ah Non osate avvicinarvi di un altro passo Dacci la refurtiva Ah Non siate ridicoli Dovete lasciarmi andare Anche voi volete saccheggiare la tomba Giusto? Perché non collaboriamo? Divideremo il bottino Non metterci al tuo stesso livello Siamo qui per salvare Futaba-chan Restituisci Restituisci ciò che hai rubato Quindi state facendo sul serio eh? In tal caso Non mi lasciate altra scelta Mi trasformo Sono un uccello egiziano Ah 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 Volete la roba? Venitevela a prendere A cosa sei debole? Non lo so Però ho provato il fuoco e il fulmine Non ho provato il nucleare Lo psichico Il vento Il ghiaccio La luce E l'oscurità E allora sai che ti dico? Frecce Splendenti Ah si è sopravvissuto vedo Bravissimo Quindi la luce non gli fa niente Il ghiaccio Proviamolo almeno La prossima volta lo saprò se è debole Il nucleare? Ma perché no? Dai Proviamo anche quello Credo che non avesse debolezze Però è morto Il papiro rubato Perfetto Makoto sale di livello E non apprende nulla Peccato Vittoria Oh ha perso qualcosa Il papiro rubato Oh è una specie di papiro E all'interno c'è una scritta C'è scritto qualcosa Ehi non si sbircia Nelle cose di una ragazza Senza permesso Ehi che diavolo succede Nel suo cuore? Il bandito Quelle strane voci che dicono L'hai uccisa E chissà che altro È un vero casino Quindi pur essendo la signora del palazzo Non può controllare Quello che succede al suo interno Non saprei Non ho mai visto un caso simile Questo perché Futaba è unica Comunque non abbiamo altro da fare In questa città Torniamo indietro Joker Sì ma prima voglio dargli un'esplorata Deserta al 100% Non c'è proprio nulla Figo abbiamo fatto tutto qui Possiamo tornare verso la piramide Torniamo indietro Non c'era praticamente nulla Ma proprio zero Due banditi in croci Neanche una cesta Peccato Bene e ora? Abbiamo esaudito la richiesta di Futaba-chan Torniamo da lei Buona idea Quella ricompensa mi incuriosisce Sì sarà un modo per entrare Ehi Futaba Ciao Sono tornato Siamo tornati Ti aveva rubato questa vero? Ottimo lavoro È vostra Aspetta cosa? Non volevi che la riportassimo qui? Non ho letto Perché ho schiacciato X Per sbaglio Non volevo dire che la portassimo qui Perché era importante Quella è la mappa della tomba Rubata dal bandito Per saccheggiare più facilmente Questo posto Ah è una mappa Perché gli permetti di fare I propri comodi? Questo è il tuo palazzo Giusto? Quel che importa è che ora La mappa è vostra Entrate Oh Ma che Futaba c'è ne scompare Merda Merda Ma queste sono Sebbia e mobili Avanti Ruotate con tutte le vostre forze Morgana che tra l'altro Era vicino al centro Poverino Ehi Siete tutti vivi Bestia Ah era lei Non era Morgana Prima un macigno Poi questi Per caso l'abbiamo fatta arrabbiare Non penso che sia questo il motivo Temo che non riesca a controllare L'impulso Che la porta respinge Le persone È un semplice meccanismo Di difesa Visto quel che ha passato Non posso biasimarla Per la sua mancanza Di fiducia negli altri Giustamente Brava Makoto Salviamola Joker Dobbiamo aiutare Futaba Chan Ad aprirci La porta del suo cuore Certamente Non ho ancora Non ho alcuna obiezione Ma prima di tutto Dovremmo pensare Alla nostra sopravvivenza Troviamo un modo Per tornare in superficie Altrimenti Questo posto Diventerà anche La nostra tomba Giustamente Bella osservazione Allora Andiamo da questo lato Che c'è Giusto Un paio di cose Che possiamo rompere E questo è l'unico modo Per salire Quindi Proseguiamo Lì c'è un nemico Che è azzurro Quindi Non posso ucciderlo Con un colpo Però Posso sempre saltargli addosso Un ombra d'oro Sì È un ombra d'oro Allora Tu sei debole Al fuoco E non ce l'ho Tu sei debole Al nucleare E ce l'ho Perfetto Explosion 1800 1800 Questo perché abbiamo giocato A biliardo Le altre volte Mamma mia Allora Ah non c'è Han Dannazione E allora niente Verità letali Non male eh Bel colpo Joker Per quelle poche volte Che lo usiamo Izanagino Okami Usiamolo Dai Allora Qui c'è qualcun altro No qui c'è Però un tesoro Dall'altra parte Che non posso raggiungere Ora Per raggiungerlo Dovremmo salire E poi scendere Dall'altro lato Ok Allora di qua Si prosegue Si perfetto Posso Rompi questo vaso Grazie Maschera della mummia Benissimo Qua si sale Nasconditi E attacca Ah era verde Potevo ucciderlo Con un colpo Un'ombra esplosiva eh Peccato non avere Satanael Ah di poco Mi siete salvati E la madonna O era lui Elusivo al massimo O ero io Che non riuscivo A colpirlo mai Madonna santa Quel nemico È verde Quindi aspettiamo Che si giri E lo assaltiamo Con un'uccisione Istantanea Non male Vero Allora Questa porta È aperta Direi di sì Vediamo dove ci porta Ci porterà In un'altra zona Sicuramente Infatti Torniamo dentro Oh si è aperta La porta rossa Che bello Ok invece di andare Verso la porta Stavolta Scendiamo da questo lato Attacchiamo il nemico Oh guarda Delle nage Che sono deboli al vento Dovrei andare a prendere La persona Con il vento E il ghiaccio Distruggi Lizanagi Bravissimo Izanagi Madonna Venire In queste zone Nel game plus Con le persone potenti Ammazza molto Della sfida Però È questo Il senso Del game plus Allora Dov'è lì Ok Di qua invece Si scende E cosa troviamo Il tesoro Suddetto di prima Con dentro Una perlina Salendo da questo lato Invece Cosa troveremo Un nemico Verde Distrutto Con un colpo E siamo saliti Di livello Siamo a 560 di vita E meno di 300 Di sp È un po' squilibrata La cosa Però Piano piano Secondo me Ce la si fa Usando il rampino Invece Saliamo qua sopra C'è un nemico Verde Perfetto Distrutto E anche Ryuji È salito Di livello Bravo Patato Pendente Dello scarabeo Va bene Da questo lato Cosa abbiamo Un altro tesoro Con Una fiera Della disperazione Vabbè Speravo qualcosa Di meglio Ok Andando da questo lato Invece Troviamo Un altro rampino Che ci porta A quest'altro tesoro Con all'interno Uno bufa Va bene Sempre meglio di nulla Tanto io tutti gli oggetti Li prendo Poi Che li uso meno Hutus è verde Quindi Muori con un colpo E anche Han È salita di livello Una staffa Qui non c'è nulla Andiamo dall'altro lato E vediamo Cosa ci nasconde Futaba Di qua Niente Perfetto Abbiamo completato Tutta questa zona Ora Finalmente Possiamo uscire Salendo queste scale C'è qualche nemico Sì Ce n'è Uh Un cane Dove sei cagnolino Ehi Quella luce Non è l'uscita Mi sorprende Che siamo così vicini Grazie al cielo Possiamo finalmente uscire da qui È stata un'esperienza orribile Ho sabbia da tutte le parti E anche se sono un gatto La lettiera non mi piace Mi piace andare al bagno normalmente E io ammazzerò questo cagnolino Allora Ah È il babbuino Proprio come il professore Allora Tu sei debole al nucleare La cosa non mi sorprende Uh Ho rubato qualcosa Vai Yusuke Uccidi Vai Makoto Uccidi Colpo critico Madonna Quella pistola è rossa Non ci avevo mai fatto caso Bellina comunque E anche Morgana Sale di livello Proseguiamo Vediamo cosa si nasconde qui Allora Qui c'è Un nemico cattivo Però Prima di andare da lui Questa è gialla Tanto non è un problema No No Fermo Dai Cacchio Becca lui Sei quadratura del culo Una ridizione Vediamo Uh Anubis Questo qua All'inizio La prima rana È veramente stronzo Perché c'ha Le abilità di uccidere Con un colpo E soprattutto Resisteva E non aveva nessun tipo Di debolezza E quindi era difficile Da tirare giù Però Sai che ti dico Anubis Tu non sei Invulnerabile Dormo Sai che ti dico Ti dico Un attacco potente Usiamo Attacco Tempesta Bravo Yusuke Dei bei critici Non vuoi parlare Anubis E allora Morirai Yusuke Fallo fuori Di poco Dai ce la potevi fare Quindi abbiamo detto Resiste solo Allo psichico Ok E allora Attacchiamolo L'importante È non sparargli Ragazzi Dobbiamo solo Attaccarlo fisicamente Anubis È in equilibrio Tra poco Non più Soprabito Lupo sporco Beh Tutta roba Che tanto vado A vendere Poi al Al negozio Quello lì Dei vestiti Più vestiti sporchi Troviamo Meglio è Tanto Detto sinceramente Abiti Non ce ne serve Soldi Sì Soldi fanno sempre comodo Qui che cosa c'è? Una stanza che ci fa salire di sopra Ok Grazie Vediamo cosa si nasconde qua sopra Delle scale Ah aspetta Queste scale però ci portano all'uscita Prima allora Uccidiamo il nemico cattivo Aspettate Più avanti c'è qualcosa Guardate come tranquilla Sembra molto diversa dalle ombre incontrate finora Forse non è una grande idea affrontare un avversario simile Senza una via di fuga Per ora dovremmo ritirarci Joker Mamma mia ma che fighette siete Probabilmente prima dovevo arrivare qui alla porta E poi affrontare il nemico Perché sarà chiusa sicuramente Vediamo Ah no strano Beh abbiamo la via di fuga Ora possiamo ritornare lì Ce l'abbiamo fatta Ma fa troppo caldo Le chiappe sudate Almeno ora abbiamo la via d'uscita Finalmente possiamo esplorare questo posto D'ora in avanti Poi entreremo da qui Dovrebbe essere più affidabile dell'entrata principale Vabbè sicuramente Però visto che siamo usciti A quanto pare Wess è imprigionato Sì perché c'è l'allarme Quindi entriamo dentro Prendiamo il mio fidato telefono E vediamo subito cosa ci manca Tra l'altro Neanche a farlo apposta Ieri sera ho pensato Ho pensato a un altro support Sì dio mio Sono Sto impazzendo questo gioco Sto creando veramente di tutto e di più Ma non ci dobbiamo perdere d'animo Perché Prima salviamo Si sa mai che la fusione vada male al primo colpo Riprendiamo Fafnir dell'altra volta Che ha tutti gli assorbi Ho deciso di non farlo più Furia Immortale Fafnir Ma di farlo in un altro modo Che poi vi mostrerò Quindi prendiamolo Ci costa un pochino Ma neanche troppo E insieme a Fafnir Dobbiamo prendere Fuzunashi Ecco qua Un altro da 60 e passa mila yen Ecco qua Vieni con noi Crea persona Fusione Fafnir Ecco qua E creiamo Ishtar 288 mila yen Ti fai poco pregare eh Igor Comunque Prendiamo volere della spada Prendiamo tutti gli assorbi Ci rimane un posto libero Quindi direi Discepolo sagace E se la fusione va bene Ed è andata bene Otteniamo questa Ishtar Ishtar non è male come personaggio Anzi Devo ammettere che quando l'ho sbloccata L'ho usata per un bel po' No Assolutamente no Il confidente Guarigione istantanea Guarda Giusto perché Mi servirà Te la insegno Signore della magia Direi proprio di sì E siccome l'abbiamo appena fusa Non possiamo fonderla ulteriormente Però guarda Ishtar Come messa bene Anche lei A parte il fuoco Adesso blocca quasi tutto Certo è inutilizzabile Visto che non ha attacchi Né support Quindi Torniamo dentro E andiamo a uccidere Quella guardia E rieccoci qua Stavolta invece Ok abbiamo una via di fuga Ora facciamo fuori Quell'affare Certo Preparatevi Non abbiamo di fronte Un nemico normale Stolti profanatori Di tombe Avete fatto infuriare Il guardiano Per voi La strada Si interrompe Ora Morirete qui Chi sei Ah tu Ammetto che anche lui Mi interessava Come persona di support All'inizio Per l'aspetto Mi piaceva Però Molto probabilmente L'ho Lasciato da parte Perché non aveva Niente di eccezionale Potenziamo tutti quanti I nostri compagni Termopili Perfetto Tutti potenziati E attaccatelo Bravo Yusuke Bravissimo E ora Attaccatelo Quando meno te lo aspetti Yusuke appare E fa il culo al nemico Topo in trappola Oh no È diventata un topo E ti tomba Oh Perfetto Nuova mossa Yusuke Ryuji Vai Ho fame Hai dammi da mangiare Deve essere un sogno Non solo per Skull Questo Ma anche per Yusuke Visto che c'è il cibo Come osi disturbarci Durante il pasto Che precisione Bravo Ryuji Yusuke Deve essere un sogno Per Yusuke Vedere tutto quel cibo Secondo me 6600 yen Fantastico Ho riguadagnato giusto Poco poco di quello che ho speso Signore della difesa Ma perché no Togliamo un Frey Che tanto ne abbiamo troppi Ok In qualche modo L'abbiamo scampata Grazie a Yusuke Che ha fatto Quel colpo incredibile Continuiamo così E andiamo verso il tesoro Dobbiamo cercare Di non essere imprudenti Procediamo Una volta Passo per passo Perfetto L'importante è che la via Ora è libera C'è nulla qui che posso urbare? No Vediamo come si prosegue Ok Bisogna saltellare Un po' in giro Prima di andare lì Giriamo da questo lato Cos'è? Ah Un arco gigante E questo cos'è? Una specie di arco E frecce per giganti Oh E' un'arma fissa Tipica del medioevo Chiamata balista Sai anche questo genere di cose Queen In effetti Ti si addice Che vorresti dire Scusa Un attimo Quella cosa Non ci sparerà addosso Vero? Beh Carica Ma sembra rotta Inoltre è tutta storta Quindi per adesso È inutile Possiamo Con Il nostro rampino Salire là sopra E vedere cosa succede Tipo Se schiaccio questo bottone Chissà cosa succederà Se riesco A schiacciarlo E questo cos'è? Una specie di pulsante Prima di toccarlo Pensaci bene Ok Potrebbe essere una trappola Anche se Sono curioso anch'io Premiamolo Com'è che si dice Chi non risica Non rosica Ok Clacate Oh cazzo Ha aperto la porta Magnifico Merda Me la sono fatta sotto Quindi era una trappola Sì ma non verso di noi Non credo Dopo aver premuto Quel pulsante Qualcosa è cambiato qui Sì Ora la luce Viene riflessa Sulla porta È una differenza Piuttosto evidente Hai ragione Andiamo a dare un'occhiata Vuol dire che la porta Ora è aperta Ragazzi Quindi torniamo indietro Saliamo Qui dopo aver distrutto Questo E uccidiamo Il nemico verde Perfetto Vediamo C'è qualcosa qua dentro Sì Solo la luce Pannello riflettente Sembra riflette la luce Che scende dal soffitto Ora che il muro è distrutto La luce raggiunge la porta Già Saliamo qua sopra Che tanto c'è solo Questa piccola urna Da distruggere Però vabbè Tutta roba che posso rivendere Ma io mi chiedo Cioè Sostanzialmente Noi Stiamo prendendo Gli oggetti Dal metaverso E ok E li portiamo Nel mondo reale Per rivenderli Poi EY Ma Li vedono come Oggetti Normali I venditori O vedono Il pezzo di sarcofago Per dire Cioè Comunque è una roba interessante Oh ehi Si è aperta Quindi dirigendo un raggio di luce La porta si sblocca Aspetta Quindi possiamo aprire la porta Della grande scalinata Nello stesso modo È possibile Sì In ogni caso Dobbiamo andare avanti Esatto Queen Questo è un punto di salvataggio No È solo un'uscita Che cosa abbiamo qui Ehi Qui c'è scritto qualcosa Vediamo La luce diffusa Dal dio Dell'oltretomba Sarà un segno Per coloro Che attraversano L'abisso Che vorrà dire Forse che la luce Ci aprirà la via Kingdom Hearts Cagnolino Aspettiamo un attimo È giallo Quindi Imboscata Che cosa sei Scimmia Più due cose volanti Perfetto Tu sei debole allo psichico E tu sei debole al nucleare Beh Tu bloccherai anche il nucleare Ma luce esplode Per questo E non puoi fermare La mia esplosione Dannata scimmia Non male eh Ti è piaciuta Questa esplosione Pappappam 37 di livello E arriviamo A 286 DPSP Me ne servono Molti di più Ok Allora Mi serve qualcuno Che dopo mi ricarica Vediamo Cosa succede Salendo da queste parti Non c'è nulla Perfetto Qua non si sale Quindi Prosegui Uh qua ci sono due porte E qua si sale ancora Vediamo prima Allora Di salen Salendo Proseguiamo Quindi Aspetta un attimo Vediamo cosa si nasconde Dietro queste porte Era un rumore Molto classico Uh Questa cos'è Tiene in mano qualcosa Un momento Che razza di statue è E' una specie di Cane E' Anubis Ryuji E' Anubis Il dio gizio dell'oltretomba Tiene in mano Una specie di globo Scintillante Sembra familiare Non c'era qualcosa Sulla luce del dio Dell'oltretomba Potrebbe tornarci Un utile Lungo la via Lo prendiamo? Prendiamola Molto bene Potrebbe rivelarsi utile Gemma dell'abisso Ottimo Ora invece Usciamo di qua E vediamo Che succede Ovvero Rampino Altro rampino Sì Credo che ci abbia Fatto tagliare La strada Sì Precisamente Ci ha fatto tagliare La strada Ma E' questo? Vabbè Sono tutte e due verdi Che me frega Finché si magna Un'altra volta La porta rossa Ottimo Sento qualcosa Qua dietro Vediamo subito Che cos'è Oh Un altro globo Oh Questa statua E' dello stesso cane Di prima E ha anche un'altra Di quelle gemme Il dio si chiama Nubis Non è così difficile De ricordare Skull Dunque Prendiamo la gemma Prendiamola Ok Prendiamola Andiamo avanti Altra gemma Perfetto Distrutto Perfetto Devo fare un bel po' Di uccisioni Finché posso Che intanto Abbiamo Tsukiyomi Perché dobbiamo farlo Salire di livello Oh ma guarda Ehi ma è Sì L'entrata Ryuji La porta della grande scalinata Quindi siamo proprio sopra Il punto in cui siamo arrivati Passando dall'entrata principale Già E ora Ridirezioniamo la luce Ehi Non vi sembra familiare Non è come Quando abbiamo aperto La porta sotterranea Per farla abbiamo dovuto Riflettere la luce Su quel coso Giusto Credi che sia Lo stesso meccanismo Precisamente Giriamola Se riusciamo a dirigere Questa luce verso la porta Dovrebbe aprirsi Qui c'è un buco Sembra che si possa inserire qualcosa Forse qui dovremmo mettere Quella cosa Che è della statua di Anubis Proviamo Una Non succede niente Calma A quanto pare ci sono Diversi piedistalli Questo vuol dire Che Due Questo è proprio come l'altro Ha lo stesso identico buco Ehi non erano due I cani portagemme Proviamo a inserire l'altra Proviamoci Ecco fatto Si gira Si sta muovendo qualcosa Ovvero il meccanismo Non ho mai capito Con un'altra persona Sagace per ora Ed è di tipo temperanza Quindi grazie Kawakami Ah è andata male Alla prima Che palle Stavolta la fusione è andata bene Per fortuna E abbiamo ottenuto Gabrielle Gabrielle No Col cavolo che mi togli quella roba La dovremmo fondere Un'altra volta Con un'altra persona E avremo il primo pezzo Della persona finale E ora che la luce arriva qui Potremmo passare finalmente Ta-dan Si si è aperta Ci stiamo facendo strada Attraverso le porte del suo cuore Non lo so se lo direi in quel modo Comunque andiamo avanti Io invece lo direi proprio Bravo Yusuke Per una volta hai detto una cosa Che non suonava strana Oh guarda un'altra porta Però qui Stanza di salvataggio Numero 1 Questo spazio è piuttosto interessante Possiamo usarlo come safe room Proprio perché lo è Yusuke Quella è una safe room Ho appena scoperto Che posso chiedere a Yusuke Dentro i palazzi Di creare le carte Mi si è Appena aperto un mondo Cazzo E allora tieni Yusuke Impara guarigione istantanea oggi Gli faccio duplicare? Assolutamente Va bene Dammi le carte Il mio pennello freme Come se fosse posseduto E chi lo sapeva Finora Che potevo Oddio Fagliele fare qua Anche dentro i palazzi Chi lo sapeva Fagliele fare qua Grazie a tutti.